Oggi per le riflessioni scientifiche o razionali, perché mi piace più chiamarle razionali che scientifiche, tratteremo delle superstizioni e dei dogmi, leggendo un articolo da un libro. Questo articolo mi ha fatto molto riflettere perché è praticamente il disegno di quello che accade nel nostro paese, diciamo, e quindi ci terrei a leggerlo. Allora, innanzitutto, l'articolo comincia così, che i dogmi religiosi si comprendono e si comportano come meme, ossia come i virus. E quindi, non so se voi conoscete la MTS, il fenomeno dell'MTS, questi meme si propagano e si diffondono nelle masse, nel popolo, e quindi vanno a costituire una mentalità alla fine diffusa e dominante, quindi per cui questi dogmi vengono tramandati anche da generazione in generazione e mostrano di perpetuare una mentalità di foschi fantasmi medievali, tanto sconosciuti quanto micidiali per la salute mentale dei fedeli. Ossia, i fedeli, quelli che diventano i fedeli, sono povere persone educate a questi fantasmi medievali che poi dopo rimangono impigliati in quella mentalità e in questa educazione, per cui vengono contagiati da questa mentalità e a loro volta diventano portatori e contagiatori di questa mentalità. Meglio sarebbe riderci sopra, ma in realtà la risata finisce quando comincia la riflessione sui danni effettivi che questa mentalità comporta alla società. Si può ridere dei dogmi, scherzare sui santi, coglionare il pensiero magico, ma poi ci si rende conto che la questione è molto più seria, di fermarsi alla derisione, perché la derisione, anche se satirica, anche se rispettosa, in realtà non tiene presente del fatto serio. Dice un detto che il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi, e questo è proprio il caso, perché penso che sia invece da prendere proprio seriamente questa questione, perché alla fine va a influenzare le relazioni sociali, le decisioni politiche, eccetera, eccetera, ma anche i rapporti di coppia. Io mi ricordo, per esempio, di essere stato con un partner di natura femminile, ovviamente perché sono maschio e sono etero, ci tengo a precisarlo, che era apotropaica, e poi vedremo che significa apotropaica. E praticamente la nostra vita di coppia era avvelenata da questo suo apotraicismo, perché alla fine lei, se non consultava un oroscopo si sentiva male, se diceva che aveva messo la gamba destra fuori di casa, invece di quella di sinistra, non usciva di casa e rimandavamo l'appuntamento per incontrarci, cose del genere che sembrano quindi innocue, ma come vedete nell'atto pratico poi iniziano a inficiare le relazioni, perché appunto persone così patologicamente superstiziose poi dopo iniziano anche a essere portatrici di disturbi, di danni alla normale vita esistenziale. Ci tengo a continuare quindi. Si può e si deve, senza troppi ambaggi, almeno da noi, almeno per ora, ridere di queste cose, ma anche prenderle e meditarle seriamente. Poi continua l'articolo e dice Ma il punto è un altro. Chi li conosce, i dogmi? Che cosa sono i dogmi? Ai, quanto si stimano i credenti monoteisti, che per lo più neanche sanno di essere tali. Se tu prendi e intervisti queste persone, tanti di queste persone non sanno che cos'è il monoteismo, non sanno com'è nato, non sanno cosa sono i dogmi. E quindi a un certo punto praticamente tu hai un carnet di persone che hanno una fede ambigua, una fede strana, una fede che in realtà è un miscuglio fra cristianesimo, antiche credenze pagane, superstiziose, qualche dogma qua e là. Quindi alla fine appartengono, anche se non lo sanno, a un sincretismo religioso e non a una vera religione vera e propria. Vai a guardare un po' da vicino e ti chiedi e tocchi con mano quanto grande sia la dabbenaggine di questi sempliciotti. Beati poveri di spirito. Quanto profonda l'ignoranza dei loro stessi dogmi, direttamente proporzionale al loro quoziente di intolleranza. Perché queste persone non accettano assolutamente le persone che non credono, per esempio, o che sono di un'altra religione. Se queste persone affiancano e agganciano un buddista, certamente non sono tolleranti verso questa... non tutti, ma molti sì, però. Si dicono cristiani e per di più cattolici, ma sono solo impregnati di superstizioni, smagnosi di apotropaiche benedizioni. Benedicono le auto, le case, gli animali, un nuovo mestiere, il datore di lavoro, che ne so, per esempio. Oppure il proprio dipendente, che ne so, cose così, forme così. Io ho visto benedire cani o addirittura gatti. Quindi, ognuno può fare quello che gli pare, però poi dopo queste cose sono apotropaiche, appunto. Cioè, che vuol dire apotropaiche? Vuol dire che per allontanare un eventuale male, un'influenza maligna, si benedicono queste cose. Ma dietro questa benedizione e questo apotropaicismo c'è l'intolleranza. C'è magari la stigmatizzazione di persone ritenute diverse o di un altro credo. Si pensa che gli influssi maniaci possono derivare da chi è portatore di religioni diverse oppure di idee diverse. E quindi lo si vede anche come una persona negativa, una persona che non crede. Loro lo vedono come una persona che potrebbe attentare alla loro vita benedetta. E quindi praticamente iniziano a attribuire questo influsso maligno a cose che gli stanno scomode. Ecco, quindi potrebbe essere qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che secondo loro porta male, diciamo, no? Quindi, in genere troviamo tra queste persone dipendenti da guaritori, assetati di miracoli, diritti propiziatori, pratiche evidenti di come la religiosità popolare della tradizione sia tuttora intrisa di immagini e credenze tipiche dell'ancestrale spiritualità animista. Di fatto questi si comportano come degli animisti, danno appunto un potere malefico alle cose, come se queste cose avessero un'anima. Quindi le auto, le case, gli animali si possono, come posso dire, imprimere di spirito maligno. Quindi questo fa parte dell'animismo. Se noi andiamo a leggere che cos'è l'animismo è fatto di queste cose. E ancora una volta questo conferma che la cultura sciamanica del passato, arcaica, arcaicissima, perché risale addirittura 50 mila anni fa, è in qualche modo sopravvissuta fino ai giorni nostri. Quindi è tutt'altro che scomparsa, tutt'altro che è tramontata definitivamente. e anche se la cosa bella e interessante è che anche se oggi sta tornando una certa stregoneria e certi riti pagani che vogliono rimettere in auge lo sciamanesimo, anche la New Age, la New Age ha fatto questo e sta facendo questo, che vuole riproporre questi riti sciamanici, è interessante che poi i portatori autentici di questa cultura nel mondo che ci sono ancora, sono rari ma ci sono ancora questi portatori della cultura sciamanica autentica, se parliamo con loro, loro ci dicono che quando assistono o hanno occasione di sapere come vengono svolti questi riti sciamanici del neo sciamanesimo, si fanno delle grandi risate perché ci trovano degli errori madornali che non corrispondono affatto allo sciamanesimo autentico tra l'altro e li chiamano infatti sciamani di plastica oltretutto quindi si divertono a ridacchiare su questo sciamanismo di ritorno New Age che non ha nulla a che fare con lo sciamanismo autentico e che fa ridere queste persone che difendono la loro cultura sciamanica. Continuiamo. A riprova, se ancora ce ne fosse bisogno di come nessun principio della cristianità sia originale, nessuna credenza inedita per davvero e si certifica come l'ideologia cristiana sia tutta roba copiata, frutto di plagio, di travestimento e appropriazione dell'antica mitologia classica. Questo per esempio lo dice Deschener nel Il gallo canto ancora. Potete trovare, se riuscite, questo libro era edito dalla Massari nel 1998 ma sono libri di solito che io cerco introvabili quindi se riuscite a trovarlo vi fate questa lettura di Deschener e vi leggete appunto come la cristianità e il cristianesimo di oggi e l'ideologia cristiana in pratica sia un sincretismo appiccicaticcio di religioni del passato di religioni e di sovestizioni di mitologie e di sovestizioni del passato avessero almeno una vaghe idea di che cosa sono obbligati a credere questi poveri credenti fin dalla tenera età genitori irresponsabili e conformisti li hanno mandati a dottrina li hanno lasciati catechizzare fin dall'asilo e nelle scuole talche poi non possono non credersi automaticamente cattolici ma i dogmi, i pilastri della fede i suoi misteri gloriosi, dolorosi eccetera abbiamo parlato nel precedente video di che cos'è l'algofilia nota alla mistica e alla geografia cattolica e cristiana no, non li conoscono non possono comprenderli tanto gli sono indifferenti quindi diciamo che loro poverini non riescono veramente a conoscere questi dogmi oltretutto sono talmente assurdi a mio avviso questi dogmi che è ovvio che non li conoscono perché sono improponibili nella vita cioè se uno li seguisse alla lettera sarebbe una persona poverina che secondo me andrebbe dritta dritta dallo psichiatra perché verrebbe destabilizzato dall'osservanza di questi dogmi alcuni sono veramente crudi sono veramente disturbanti per giunta pretendono rispetto assoluto chi propone questi dogmi pretende rispetto assoluto per la fede propria un po' meno per quelle altrui e sono prontissimi a offendersi alla minima critica o ironia rivolta al loro clero attenti al vilipendio alla religione ecco infatti questi individui queste persone di solito sono molto permalose riguardo al loro credo si offendono facilmente mentre non si curano di non offendere gli appartenenti a un'altra religione cioè per loro appunto non è possibile l'offesa mentre per gli altri è assolutamente non solo possibile ma doverosa perché non ci dimentichiamo questi personaggi sono anche molto apologetici come abbiamo già detto in altri interventi una fede istintiva quindi verace e tenace le masse credulone ce l'hanno invece nei poteri sovrannaturali energie positive o per i maghi di oggetti amuleti crocette santini statuette talismani insomma dei fetici caratteristici di tutte le sottoculture superstiziose ecco queste sono poi gli ingredienti no? ingredienti superstiziosi del credere simboli di ataviche credenze animiste feticiste sciamaniche quindi come vediamo sopravvive una cultura sciamanica animista feticista che usa appunto per esempio queste credenze magiche per scongiurare il male per liberarsi dal malocchio da cose del genere insomma nella realtà tale feticismo pervate menti e comportamenti di persone intrise e di superstizione sanno tutto dello zodiaco del malocchio dei filtri dei filtri magici ovviamente fantasticano di angeli e di oroscopi ma non hanno un'idea né tantomeno amano discutere di creazione di trinità di transustanzazione di risurrezione della carne d'anima immortale di tantissime analoghe scempiaggini teologiche che per quanto stolide e risibili d'accordo non dovrebbero tuttavia lasciare indifferenti i fedeli autentici cioè poi ecco questa sottocultura che si sovrappone poi alla cultura dogmatica teologica mostra di oscurare questa filosofia questa ideologia teologica questa filosofia teologica che è portata dal dal cattolicesimo no? e quindi praticamente questo c'è in seno alla religione c'è un oscuruntismo della religione stessa tra l'altro questo vuole dire l'articolo quindi paradossalmente quindi questa religione soffre di pesanti contraddizioni cioè si contraddice da sola si contraddice nel suo comportamento perché la superstizione semplicemente non dovrebbe esistere perché ci sono i dogmi che dovrebbero bastare al fedele ma invece non è così perché questa cultura animista invece è sopravvissuta è sciamanica è sopravvissuta in seno alla religione cattolica in molte persone che credono ma non soltanto persone del popolo sono anche alcuni prelati oppure possono essere anche alcune persone che sono poi state dichiarate sante o beate dalla stessa chiesa cattolica quindi che appartenevano più nella loro pratica nella loro credenza alla cultura sciamanica feticista e animista al mondo della teologia insomma quindi altro che dottori della chiesa che vengono fatti i santi accanto ai dottori della chiesa troviamo queste persone santificate dalla chiesa ma che proveniente da una cultura popolare superstissiosa che ancora oggi è presente insomma nella nella religione cosiddetta cattolica e nel popolo dei fedeli insomma pensare che è tutta roba obbligatoria materia prima per catechisti con la scuola moratti poi c'è persino all'asilo questo affermazione fa riflettere molto perché se oggi ancora abbiamo poca mentalità laica nel nostro paese e merito anche di certi ministri come la moratti come altri ministri molto conservatori molto vicini se vogliamo al catechismo che appunto hanno fatto della scuola che dovrebbe essere laica assolutamente una scuola per niente a confessionale ecco per niente a confessionale e soprattutto non trovo giusto che la scuola sia un luogo dove viene proclamata la religione di stato al limite dovrebbero trovare spazio tutte le religioni non soltanto con una che è quella di stato come avviene in Canada per esempio nell'esempio canadese troviamo la libertà religiosa dove tutte le religioni sono trattate alla pari non c'è una religione insegnata a scuola sulle altre insomma che domina sulle altre assolutamente e quindi questa è un'altra cosa indigeribile da parte di noi laici insomma che è veramente indigesta perché fa del nostro paese un paese assolutamente medievale un paese assolutamente che non si è democratizzato da questa cosa non è per nulla democratico e non lo sarà mai finché non verrà cambiata questa cosa perché poi questa influenza poi tutte le altre sfere della società e poi sono docmi può far bacco quale dovere maggiore per chi si crede credente invece non gliene frega proprio nulla forse perché supponiamo noi i fedeli si accorgono che i primi a saperne pochino e a non crederci per niente sono i loro stessi guro spirituali ossia confessori prelati imam pope rabbini teologi e ciarlatani consimili ecco quello che dicevo prima che i portatori della superstizione sono proprio quelli che invece dovrebbero portare solo il dogma e invece portano anche altri accessori come l'animismo il feticismo eccetera eccetera che abbiamo detto quindi sembra che questo è un discorso che vuole difendere il dogma ma in realtà è un discorso che non vuole nemmeno difendere il dogma però è un discorso che ti fa capire che al dogma non ci credono nemmeno loro quindi praticamente questa religione è falsata già in se stessa perché se loro stessi non credono nel dogma figuriamoci se il dogma potrebbe essere vero insomma figuriamoci figuriamoci quindi paradossalmente le rare volte che costoro accettano di dialogare capita che i dogmi glieli dobbiamo spiegare noi noi che non crediamo noi che siamo atei agnostici o miscredenti o scettici impenitenti gli dobbiamo andare a spiegare i dogmi per rendere conto e quindi cioè dove si va è una cosa incredibile e quindi proviamo a continuare questo discorso ed ecco perché tra l'altro i liberi pensatori non accettano lezioni dai credenti ridotti oggi più che mai al miserando ruolo di pecorelle che non sanno e perché e pertanto riprendendo all'ichieri tornano dal pasco pasciute di vento noi saremo quelle pecorelle che appunto non sanno e tornano dal pascolo soltanto col vento e con niente da dire non è vero cioè quindi praticamente ci vogliono dare anche delle lezioni questi credenti e ci vedono come pecorelle che non sanno come pecorelle ignoranti la pecorella smarrita la famosa pecorella smarrita che però appunto secondo me come dice Kahneman è meglio smarrirsi è meglio trovare una strada diversa che la strada appunto che ti porta secondo me a credere a cose che non esistono ti conforma alla psiche in modo allucinatorio visionario come posso dire oppure paranoico perché molti di questi che credono all'influenza e maligne poi sono paranoici sono persone che soffrono di manie di persecuzione di fobie irrazionali vedono influenze malefiche dappertutto vedono pensano che la giornata gli è andata storta perché ci sono le influenze malefiche di quella persona o di quell'altra insomma abbiamo noto questo comportamento tra noi simili no? non vediamo mai persone che dicono ma no queste sono tutte stupidaggini non vale la pena crederci e influenzare la propria vita appresso a queste stupidaggini vediamo anzi persone che ci credono che si rivolgono ai maghi agli esorcisti ai liberatori ai santoni alle sette insomma ne abbiamo di cotte e di crude ne abbiamo di cotte e di crude purtroppo poi dopo vanno in televisione e piangono il mago mi ha tolto 5.000 euro 15.000 euro ma non è che il mago te l'ha tolta te le sei fatti togliere e quindi questo vittimismo poi su quale ci mangia poi la televisione perché la televisione fa audience su questo vittimismo appunto è tutta contenta che ci siano questi casi e non spiega mai perché ci sono questi casi si limita alla narrazione ma non è che va a fondo della questione guardate queste persone sono dei scialtroni non improvvisati che permettiamo noi grazie alla scuola cioè ti dicono metà li criminalizzano giustamente perché vedono che si sono comportati esageratamente male perché hanno estorto denaro però li criminalizzano soltanto a livello dell'estorsione poi non vanno oltre a approfondire il tema e fanno prevenzione dicendo che ci vorrebbe una buona dose di laicismo e di razionalità nell'educazione no si fermano lì all'estorsione del singolo mago o puniscono magari quello se viene poi punito perché poi secondo me tanti rimangono a spasso liberi di esercitare ancora e quindi cioè alla fine alla fine sono liberi di continuare a estorsere il denaro ai polli però poi pure i polli un po' solo meritano perché credono a queste cose sinceramente no e quindi secondo me disegnarli soltanto come vittime mi sembra un po' riduttivo quanto meno ecco andiamo avanti allora quindi la loro divinità nella sostanza si chiama superstiziosità fenomeno ancestrale dell'antropologia nata già si direbbe con l'ominazione del primate Homo sapiens sapiens documentata da diecimila anni fa almeno la creduloneria si perpetua anzi si approfondisce con la crescente ignoranza scientifica che cosa c'è in realtà di più popolare della superstizione che in concreto si declina poi sempre al plurale essa appare addirittura universale e lo è per definizione essendo speculare per l'appunto alla non meno credula devozione le cui forme tradizionali tra il pittoresco e lo sceno a ogni latitudine del nostro pianeta sono arcinote ai turisti di tutto il mondo come tutti i grandi mali dell'umanità come per esempio la povertà la fame l'analfabetismo le epidemie qualsiasi superstizione trova brodo di coltura nelle odierne società di massa ai nostri giorni si moltiplica a dismisura grazie anche internet paradossalmente tramite dei mass media proprio quelli che dovrebbero essere i più raffinati vettori di conoscenza e naturali antagonisti dello scurrantismo fideista proprio questi mezzi diffondono questo virus della superstizione chi non vede per conto televisioni pullanti di maghi di oroscopi taroccari predicatori liturgie traboccanti di ridicoli misteri di padre pi e di madre terese di infiniti beati menagrami si possono immaginare forme più subdole e o manifeste di instupidimento veicolate dalla tecnologia più avanzate processioni santificazioni pubbliche statuette piangenti guarigioni che neanche la scienza sa spiegare a detta di giornalisti ignoranti più del giusto ecco un altro paradosso che la modernità avveniristica dei canali mediatici e incombe già il digitale terrestre per esempio a contribuire a questa cosa si trovi a veicolare tante ataviche scempiaggini perché dice anche del digitale terrestre perché col digitale terrestre potendo sintonizzare più canali sono aumentati i canali di queste cose qui quindi se prima la televisione per esempio poteva contare su pochi canali di questo tipo adesso può contare sempre il numero crescente di questi canali qui e poi se poi parliamo di internet capirai non finiamo più perché con i social media di internet oggi veramente che cosa fa testo oggi già lo dice la tv l'ha detto la tv alla stessa stregua in un non lontano passato lo diceva il prete dal pulpito quindi la superstizione dei contemporanei non è certo una compensazione per il troppo razionalismo non è arcaismo non è sedicente bisogno di sacro in un mondo secolarizzato la superstizione è fatta in realtà della stessa passa della tecnica moderna l'irrazionalità è già tutta data in quelle concatenazioni di segni astratti che ogni giorno manipolano restando del tutto ignali indifferenti al loro significato ma i dogmi seriosi misteri della fede che c'entrano con le ottuse e banali superstizioni bella domanda che si fa più che altro in segno all'arte retorica per illuminarci teologi di ogni credo coltivando tuttora la medievale pseudoscienza dell'infinitamente assurdo ci propinano caterve di mirabolanti sofismi al fine di distinguere zuppa da bambagnato le religioni sedicenti superiori cioè dalle banalissime sette ovviamente ritenute inferiori quindi praticamente ecco qui che i detentori della verità vogliono sburgiardare i sottoculturali della verità voglio dire che i detentori della religione superiore quella dogmatica che sono anche loro ciarlatani non meno di quell'altri che si danno alle sette si danno all'animismo e si danno a queste cose tuonano dal pulpito che bisogna appunto riportare nell'ovile le pecorelle che si sono smarrite in questi altri meandri fideisti e quindi praticamente c'è anche una lotta interna se vogliamo tra i credono basta così perché smantellare e ridicolizzare la teologia è davvero come sparare sulla croce rossa chi ne sa poco appunto e vorrebbe saperne di più non ha che da cercare di gustarsi uno dei grandi libri garzanti il buon senso di paul holbeck che ammesso che lo riesca a trovare perché è un gioiello della letteratura illuministica ma anche umoristico molto umoristico che io ho letto ma non è così facile da trovare l'ultima edizione è stata edita nel 1987 ma è un libro molto molto da ridere c'è molto da ridere grazie a questo libro uno spasto squisito per riuscire a ridere della barbarie oscurantista sondandone i fittizi arcani esistono tuttavia alcuni dogmi razionali eccone uno ogni religione di per sé appare come superstizione ai sequaci di una fede diversa per di più si sa che il documentismo sinonimo di potere magistico clericale nulla a che fare col povero Gesù uomo ingenuo naiffa analfabeta mago e visionario in Nazareno non se li sognava neppure quegli schemi quegli schemi dogmatici quei dogmi assassini di partorì invece di filato lo psicopatico Paolo che è venuto tra l'altro dopo imitato da una sequela di sommi padri e dottori della chiesa fono loro indubbiamente gli iniziatori infami del turpo imperialismo cattolico gli araldi di tanti razzismi immesso ante l'iteram nella storia umana i dogmi sedicenti verità fanciullesche oscene caricature di pensiero mascherato di filosofia ridicolaggini sì ma tutt'altro che innocue vere armi pesanti per fondamentalisti di ogni credo i dogmi sono lì per generare e legittimare di continuo mostri nemici angosce esistenziali altro che ecumenismo altro che buonismo queste ennesime ipocrisie del postmoderno quante altre guerre di religione dovranno ripetersi perché gli sia strappata codesta rispettabile maschera è vero non si possono immaginare prove della fragilità e stupidità umana più infauste delle superstitioni da un lato più pericolose del dogmatismo dall'altro imperfetta simbiosi di reciproco parassitismo cioè una parassita l'altra faccia della stessa grama realtà storica chi studia arricchisce la propria conoscenza non solo a scuola si badi ma fin tanto che campa non può trovare esempi peggiori di idiozia massificata di stupidimento pedagogico vi si esprime compiutamente purtroppo il criminoso cupio di solvi inerenti in tutte le superstitioni religiose piccole e grandi per finire col grande Bertrand Russell non ci resta che lamentare un ultimo dogma ma razionale cioè irrefutabile che è oltretutto uno dei pochissimi e accettabilissimi assiomi agnostici ossia che tutte le regioni sono false e dannose in ugual misura in verità credere che una religione sia più vera di un'altra oppure un dogma più credibile dell'altro e la peggiore delle superstitioni senza ombra di dubbio arrivederci grazie a tutti